Ciao ragazzi, qui Giuliano e Danieli all'ufficio di Prima Posizione. Come state? Spero alla grandissima, anche se purtroppo siamo in un momento storico molto difficile perché c'è la guerra, però ragazzi noi dobbiamo comunque cercare di andare avanti, cercando di dare tutto il nostro appoggio a queste famiglie, a queste persone che purtroppo si trovano in questa situazione. Ma al di là di questo, oggi di che cosa parleremo? Oggi andremo a parlare assieme al mio amico Jordan di come si sviluppa rapport, sintonia con un cliente, ascoltandolo e facendo domande. Mi raccomando se non sei ancora iscritto al mio canale iscriviti e qui c'è solo un'unica regola, miliardi di pollici su. Bene, iniziamo, vediamo cosa ha da dirci Jordan a proposito di questo. So, via. Hey, JB here, the real wolf of Wall Street. Welcome to Sales School, the place to get your daily dose of sales training and tips that will help you increase your closing rate and make a lot more money. Either I give you a tip myself or I will have a guest on who's an expert in the world of sales, could be a trainer or just a great closer. But today, I look around and here's me. I'm alone, so you got me giving you an awesome tip today. I got a great one. Here's the deal. One of the things, the biggest mistakes that I see salespeople make is they do not go into the sale with a strategy that actually follows the straight line. They study the straight line. They understand the principles of tonality, body language when in person. They understand the concept of looping, asking for the order, right? But what they fail to do is get into rapport by asking questions. One of the most important aspects of the sale is how to enter the second and third steps, as I refer to it. is you must take immediate control of the sale. That means you have to be positioned in the prospect's mind as an expert in your field, sharp, enthusiastic. And because of that, they defer to you. So you take control. They essentially give you control, right? But what does that mean? What do you do with that control? Well, when we speak about control, we're not talking about control being you talk, 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 talk while the prospect sits there and listens. No, it's the actual opposite. When you're in control, you're asking smart questions using the right tonalities and you are listening very intently using what's called active listening, straight line technique, right? As they respond. And by doing that, by asking questions. Praticamente, ragazzi, suggerimento che do anch'io sempre, come il mio amico Jordan, è quello di quando fate domande dovete ascoltare in modo attivo. Ascoltare in modo attivo vuol dire prendere appunti e quando il cliente parla usare un po' il verbale e il non verbale facendo il verbale. Sì, sì, ti capisco. Sì. A proposito di questo, intendi così, così, così? Ok, quindi far capire al prospect che sostanzialmente state ascoltando, cioè state ascoltando le cose che per lui sono importanti in merito al problema magari che vi sta raccontando in merito alla soluzione che sta cercando, ok? Una delle cose, devo dire, che mi infastidisce di più è vedere venditori che arrivano senza un pezzo di carta e prendono zero appunti, cioè tu parli, parli, parli e questi non scrivono nulla di quello che tu gli stai dicendo. Capite ragazzi che è molto difficile ricordarsi le cose, ricordarsi poi il come il cliente descrive il suo problema, che tipo di soluzione cerca, cioè dovete scrivere esattamente le parole del cliente quando prendete appunti perché? Perché quando gli presenterete il preventivo e andrete a descrivere il problema che ha o andrete a descrivere la soluzione che sta cercando, parafraserete esattamente le parole che vi ha detto e che voi vi siete appuntati, ok? Così creerete un preventivo ancora più personalizzato, questo è fondamentale. Quindi il fatto di fare una domanda, mettersi in rigoroso silenzio e ascoltare in modo attivo prendendo appunti è una delle cose più potenti che in assoluto puoi fare per entrare in sintonia con il cliente in rapporto e mantenerla perché il cliente si sentirà capito, ascoltato. And listening actively as the prospect responds, what you end up doing is A, not just getting all the information that you need to decide whether you should even try to take this person down the straight line, do they need the product, want the product, can they afford the product, what are their pain points? Yeah of course you've got to get that, that's your intelligence gathering, but what you're also doing is you're simultaneously building rapport. Esatto, quello che vi ho detto io, cioè non solo otterrai risposte, informazioni per chiudere quel contratto ma creerai anche un rapport, una sintonia molto molto potente, molto forte. I listen to taped sales presentations, what happens is very often the salesperson is picking up where someone left off in the process, so they might already have the information they need in front of them. There's no real requirement to be asking any questions. They have the info, they know what the person needs, they're already qualified, so they jump on the phone, and it's typically the phone these days because of COVID, right, or Zoom, and they get on, hey Jim, how you doing? Okay great, let me offer you the solution, they go right into the solution without first going back and re-asking some of those questions to anchor them back in to what's happened in the past. That's when you have a two call system or a three call system, what you're doing is you're leveraging off the credibility, the feeling of comfort, the knowing that this is an entity I've been dealing with, you're leveraging off that, and it helps you essentially close mobile cause the prospect is entering this call at a higher level of certainty. They've already spoken to someone, they've gotten a bit of education on your company, on your product, and so forth. But what I see happening here is that the next person in line, the third person to speak to someone, or at least the second person to speak to someone, right, they will have the info they need, they fail to go through this little, so when you spoke to Maria last week, let me just confirm a couple of things. You said X, Y, Z. They don't go back and anchor the person into the previous conversations. They go in and just start presenting straight away. Ok, bello l'esempio che fa Jordan a proposito della vendita telefonica, ok? Sostanzialmente lui dice mi capita di aiutare clienti che magari per effettuare una vendita fanno due, tre telefonate e cosa succede? Che magari una prima telefonata la fa un venditore e una seconda telefonata la fa un altro venditore. Che cosa succede? Succede che il secondo venditore, poiché sa che il primo venditore ha già chiesto tutto al cliente, quindi sa già effettivamente quel cliente là di che tipo di soluzione ha bisogno, il secondo venditore che cosa va? Va dritto al punto e propone subito la soluzione. Diciamo ragazzi che così non si crea sintonia, non si crea rapporto con quel cliente, perché? Perché se chiamasse il venditore A che già conosce quel cliente va bene, potrebbe anche andare direttamente alla soluzione perché si sono ballati magari la settimana prima, il giorno prima. Ma se chiama un'altra persona che è assolutamente sconosciuta a quel cliente, Jordan giustamente dice ed effettivamente ha molto senso quello che dice è attenzione che se tu sei il secondo venditore e quel cliente lì non lo conosci, devi fare qualche passettino indietro, riprendere la telefonata dove l'ha lasciata il venditore precedente dicendo al cliente, Mari ma fammi capire a proposito di questo, 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 è così? Cioè la soluzione che cercavi è questa? A proposito del tuo problema ma era questo? Sto cercando di ricollegarmi alla telefonata che hai fatto con il mio collega Carlo per capire se è stato tutto sviluppato, per capire se ho capito bene. In questo modo entrate subito in sintonia con il cliente e poi potete proporre la soluzione. Quindi a meno che il cliente non ti conosca già e allora puoi proporre subito subito la soluzione, ma se non ti conosci devi andare un po' in punta di piedi, entrare in sintonia e poi proporgli la soluzione. Based on the information it happens, it's a huge error. Because again, there's a magical thing, I say this in many, many episodes of Sales School, that happens through this question and answers. It builds rapport, it makes someone feel comfortable, that you're not just a pushy salesperson. So don't skip that important step. Even if you have the information that you need in front of you to close someone and you enter that sales encounter, whether it's in person or over the phone, I want you to take at least a minute to say, okay, great. Now, I know you spoke to so-and-so last time. Let's just go through. So you said you pick out three or four important facts, confirm them. Maybe if there's a certain story that was important, this person had them tell you that story again. It's okay to burn a minute or so here because it's not burning anything. You're actually doing something crucial. You're getting back into rapport. You're gaining someone's trust because they know you care. You're listening to them. The last thing you want to do is be perceived as a pushy salesperson. It's exactly what happens and you just come in and start closing or presenting right off the bat. So remember, you always want to be asking at least a few questions, even if you're the next person in and you, you know, that's certain they've already been qualified. Confirm what's happened in the past. Have them anchor back into that last experience and then you build on the credibility that to do. Sempre ragazzi, nel senso che per vendere qualcosa a qualcuno quando iniziate una trattativa di vendita dovete mantenere il rapport, no? Cioè dovete mantenere empatia. Se iniziata la trattativa di vendita e poi su quella trattativa vi sostituisce un vostro collega, quello lì deve quasi ripartire, non dico da zero, ma da metà. Perché? Perché il cliente non lo conosce, quindi deve creare sintonia e questa cosa vale anche per voi, anche quando siete voi che iniziate la trattativa e la portate fino alla fine. Se ad esempio state facendo una trattativa e siete in totale sintonia con il cliente, poi per sbaglio dite qualcosa e vedete che quel cliente magari si irrigidisce un po' o si butta un po' all'indietro. Significa che avete detto qualcosa che ha rotto la sintonia, che gli ha dato fastidio e quindi dovete cercare di ripartire da quel punto là per ritornare in sintonia. Ricordatevi ragazzi che essere in sintonia con il cliente, in empatia, cioè capirlo, è una delle cose più importanti per vendere qualcosa a qualcuno. Potete avere il prodotto migliore, la soluzione migliore, però se non riuscite ad entrare in empatia con gli altri non venderete un chiodo, ok? Perché? Perché sarete percepiti come dei piazzisti, come gente che vuole vendere a tutti i costi e che non è minimamente interessata a quello che prova il cliente dall'altra parte, ok? Mi pare ci sia ancora un pezzettino, vabbè guardiamolo. Sì esatto, vabbè alla fine Jordan dice che chiaramente questa cosa qui di mantenere il rapporto con il cliente farà aumentare a dismisura il vostro tasso di conversione. Vi invito a fare un test. Provate a fare tre trattative dove andate dal cliente assolutamente disinteressati e magari non prendete appunti, non fate niente per creare rapporto in sintonia con il cliente. Sono sicuro che non venderete un chiodo. Poi provate a fare invece tre trattative di vendita dove proprio vi concentrate sul mantenere sintonia e rapporto con il cliente. Magari prendete appunti, chiedete conferma al cliente su quello che vi ha appena detto, fate domande di approfondimento, ok? Ne ho parlato su altri video di queste cose, quindi andateveli a vedere. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Un saluto da Giuliano e Danieli. Mi raccomando, miliardi di pollici su e ci vediamo alla prossima. Se non ti sei ancora iscritto alla Sales Mastery University di quest'anno ti aspetto. Ciao!